Ultimi giorni di allestimento qui nel Giardino Vescovile a Trento per il Parco dei Mestieri della Montagna. Siamo alla quattordicesima edizione, si comincia alle 11, giovedì 26 aprile. Tante novità anche quest'anno nell'ambito del Trento Film Festival, stand didattici per le famiglie, per i ragazzi, per i bambini, davvero per tutti. Le novità di quest'anno, accanto allo speleologo, e alle guide alpine, avremo il mascheraio con il Museo degli Usi e Costumi di San Michele, la missione fauna con il Parco Naturale ad Amello Brenta e l'upologo con il Museo delle Scienze. In più, un laboratorio dal titolo Chilovattiamo con il Centro per la Cooperazione Internazionale. E poi, a piedi nudi nel parco, la passione e sicurezza sugli sci con la pulizia di Stato e tanti eventi, libri, cori, laboratori a cura degli Eco Musei. Un programma molto ricco dal 26 aprile al 6 maggio, Parco dei Mestieri della Montagna, con Vita Trentina, Radio Tentrino e Gru, nell'ambito del Trento Film Festival. Vi aspettiamo!